Buongiorno a tutti, ci stiamo avvicinando sempre di più all'ottantesimo anniversario del 24-25 luglio 1943 e negli ultimi video direi che stiamo veramente macinando un sacco di informazioni, un sacco di prospettive, di punti di vista di vari ambienti abbiamo parlato dell'ambiente monarchico, di quello antifascista, di quello diplomatico, di quello militare di come questi ambienti in qualche modo si vanno a sovrapporre, a confondere anche nelle prospettive, nelle ipotesi, nei timori ovviamente che è un salto nel buio come la possibile caduta del fascismo e in prospettiva anche l'uscita dall'alleanza con la Germania e quindi dalla guerra con degli sviluppi bellici particolarmente insidiosi, il 10 inizierà lo sbarco in Sicilia con tutto quello che sappiamo in termini di stabilità interna oltre ovviamente negli equilibri internazionali tra contrapposizioni dei vari fronti mancherebbe, dico mancherebbe perché in realtà l'elemento fascista è sempre presente nelle letture che stiamo facendo indipendentemente se siano gli ambienti militari, quelli diplomatici, quelli di corte eccetera eccetera ma secondo me, e l'abbiamo anche affrontato in passato per esempio leggendo le memorie di Senise, di Carmine Senise, capo della polizia quindi in qualche modo abbiamo sempre un orecchio che in qualche modo ci porta a Palazzo Venezia per capirci tuttavia reputavo fondamentale, interessante poter anche fornire delle fonti in qualche modo molto vicine a Mussolini o comunque vicini agli ambienti del fascismo istituzionale, dei cosiddetti gerarchi quelli che nel bene o nel male, più nel male che nel bene, hanno gestito la cosa pubblica insieme al fianco di Mussolini e che stanno per compiere un determinato passo tra le memorie che tra l'altro già abbiamo avuto modo di esaminare in altre circostanze il diario di Giuseppe Bottai secondo me è una fonte indispensabile, inesauribile anche di informazioni, di prospettive e anche di analisi perché poi Bottai, già abbiamo avuto di conoscerlo, per chi frequenta questo canale oltre ovviamente per chi magari ha avuto modo anche di leggere la biografia che ho scritto all'interno di Gerarchi Fascisti speriamo di inserirlo bene, se no facciamo come l'altra volta che il libro era un altro che cadeva vabbè, nel dubbio lo mettiamo qua era quest'altro quello che era caduto detto questo, quindi Bottai secondo me è una fonte che non possiamo lasciare da parte in questa analisi e di conseguenza ho deciso di leggervi in più parti adesso vediamo un po' come svilupparle il luglio del 43 quindi il cammino che ci porta alla defenestrazione di Mussolini potremmo iniziare anche da prima ma per questioni meramente cronologiche diciamo che, considerando che questo dia inizia il 35 a forza di andare indietro potremmo arrivare addirittura al 35 ma iniziamo con il luglio del 43 e in qualche modo lo rendiamo anche fruibile nella comparazione rispetto alle altre letture che abbiamo fatto ossia appunto quelle di Bonomi, quelle letture su Badoglio avevamo letto Puntoni, per esempio per chi fosse interessato domani ovviamente l'ottantesimo anniversario dello sbarco in Sicilia farò un video in proposito non vi preannuncio ancora nulla però diciamo che per chi fosse interessato c'era il vecchio video sul diario di Puntoni per esempio sul 10 luglio ma anche per esempio le relazioni diplomatiche tra Italia e Germania sul 10 luglio quindi diciamo che il 10 luglio 43 è già stato oggetto di numerosi video su questo canale e quindi in qualche modo ci incanaliamo in quel percorso che inevitabilmente passa anche attraverso allo sbarco anglo-americano in Sicilia detto questo dal diario di Bottai questa è un'edizione Rizzoli poi ci sono state anche altre edizioni questa è curata da Giordano Bruno Guerri quindi diciamo che è un'edizione degli anni 80 adesso vi dico anche esattamente dell'82 quindi di 41 anni fa dicevo 2 luglio 43 Roma echi delle dichiarazioni del Duce nel direttorio del partito non sto qui a entrare troppo nel merito ma sappiamo come nella primavera del 1943 il partito è particolarmente diciamo effervescente di idee idee che lasciano il tempo che trovano nel senso che si cerca sempre una riforma un tentativo di riammodernamento di tornare ai valori originali del fascismo la contrapposizione tra rivoluzionari e conservatori tra coloro che in qualche modo avevano ancora la volontà di portare avanti i vecchi principi anche sociali che in qualche modo si sarebbero sviluppati no sviluppati si sarebbero dichiarati poi non sarebbero rimasti anche lì le tramorte durante la repubblica sociale però diciamo che in qualche modo c'è sempre questa perenne lotta tra fazioni all'interno del fascismo che dice no ma noi ci siamo imborghesiti ci siamo istituzionalizzati abbiamo fatto il patto con l'esercito con la monarchia, con la chiesa, con gli industriali ci siamo imborghesiti e in questo senso è tutta l'essenza del nostro fallimento anche bellico e quindi Mussolini ogni tanto tira fuori dal cilindro qualche novità ma diciamo che lasciano come al solito tempo che trovano quindi riconoscimento della gravità della situazione e fiducia che il prolungare della resistenza agisca su questi tre motivi primo, non convenienza della Russia a seguitare e a svenarsi per alleati che avrà contro domani il giudizio qui che emerge può avere un suo fondamento ma è fuori dalla grazia di Dio nel senso che non ci si può basare un programma politico sulla eventuale discordia della contropatte sì è una logica che c'è stata in tempi anche di epoca contemporanea ma non è ovviamente non può sempre dire bene diciamo così a Mussolini cioè un po' bleffare all'infinito poi non convenienza dell'Inghilterra a seguitare una lotta che l'indebolisce nei confronti di un'America sempre più forte e invadente anche questo può avere una sua ragione ma in quel momento non è questa la priorità terzo azione delle forze rivoluzionarie nella stessa America diciamo che ci si accampa su presupposti che possono avere la loro valenza teorica ma all'atto pratico in quel momento specifico la coalizione degli alleati anglo-americana-russa è inarrestabile e incontestabile nonostante tutte le contraddizioni le crepe e gli obiettivi diversi siamo insomma nell'attesa ad eventi estranei ormai alla nostra volontà e capacità di fare e quindi sembra un po' elemento generalizzato tutti quanti aspettano qualche altra cosa una sorta di un'attesa aspettando Godot ma in maniera esponenziale tutti quanti il re Acquarone Badoglio Bastianini Mussolini Bottai tutti aspettano qualche evento qualche illuminazione divina che in qualche modo risolva la questione 4 luglio 43 ieri dal duce non sofferente all'aspetto ma patito e come sciacquante nella sua sariana bianca Bottai è sempre molto pittoresco nelle descrizioni nessun accenno nessun accenno agli avvenimenti se non questo che la guerra sarà ancora lunga non so se è una minaccia o una promessa in quanto a me niente Ina riaffiore invece Liri quindi Bottai che è considerato uomo di cultura uomo di ingegno uomo di al di sopra di ogni interesse di bottega però anche egli aspira a qualche a qualche poltrona quindi l'Ina no però forse Liri quindi in qualche modo egli vuole sempre ma l'ipotesi della camera se Grandi riaffermerà le sue intenzioni prende consistenza quindi diciamo qualcosa mi danno non è che esco proprio così ma malconcio da questi giri di waltzer del giudice è stato dal principe ereditario che gli ha esplicitamente parlato della grave situazione tecnica in cui è stato messo l'esercito che ora si vorrebbe rendere responsabile di tutto e anche Umberto non mi sembra così diciamo cosciente consapevole determinato ecco a prendere il toro per le corne sempre questa cosa queste difese di ufficio questi sotterfuggi ma no la responsabilità non è nostra è vostra ma è più vostra che nostra ci dispiace ci dispiace più a noi che a voi però è colpa più vostra e quindi è sempre un rimbalzo delle responsabilità e quindi anche delle decisioni 6 luglio 43 quadro della situazione secondo Cantalupo disegnato soprattutto in base a informazioni dirette via RIMP troppo Cantalupo era un ambasciatore un diplomatico gli Stati Uniti esigono che l'Inghilterra si impegni a fondo sul continente entro l'estate altrimenti intendono riprendere la loro libertà d'azione dirigendo i loro sforzi come reclamo all'opinione pubblica americana nel pacifico contro il Giappone 6 luglio sappiamo che dopo 4 giorni ci sarà qualche impegno sappiamo gli inglesi d'altra parte titubano titubano che lì ha sconcertato la Stasi sul fronte russo Bottai ha sempre una grafia molto a stampa però ha sempre una grafia molto particolare non usa mai l'H per esempio nei verbi io ho mangiato non mette mai l'H mette l'accento sulla O quindi distingue O di evocativo oppure la A ha mangiato dalla A vado a casa sempre con l'accento quindi è anche un po' difficile leggere Bottai che è un erudito e scriveva pure così come gli pareva gli inglesi d'altra parte abbiamo letto che i tedeschi non abbiano attaccato è un grave è un gran fatto al nostro attivo e lo si deve in gran parte a Mussolini allo stato maggiore tedesco come contro l'opinione di Hitler quindi pure qua si fanno degli scarichi a barriere ma lo sbarco che indubbiamente gli inglesi faranno dove piuttosto nei Balcani che in Italia quindi i depistaggi che gli inglesi stanno svolgendo hanno i loro effetti i forti concentramenti ai confini siriani con la Turchia che resiste lo fan credere fino a qual punto riuscirà o riesce del tutto o non è risolutivo lo si vedrà presto ecco il dubbio amletico degli inglesi se entro l'estate uno sbarco sarà tentato e fallirà per ottobre l'asse farebbe una dichiarazione dei diritti dei popoli europei cominciando la Germania a restituire la libertà ai paesi occupati e questo è sempre il pallino della diplomazione italiana l'abbiamo letto con Bastianini il fatto di portare Ribbentrop a dire sì combattiamo con brutalità stiamo facendo una guerra spietata di sterminio ma dopo potremo sempre fare lo sterminio bisogna in qualche modo anche allentare la corda e quindi questo è un falso problema perché tanto la guerra è persa ma è già persa quindi cosa non si può contrapporre nulla al proclama delle Nazioni Unite che hanno un programma per il domani che poi venga realizzato fino a un certo punto è un altro paio di mani che sappiamo che l'est europeo verrà completamente abbandonato a se stesso al totalitarismo staliniano però in qualche modo c'era un presupposto anche di possibilità di sostenibilità bellica di quegli impegni l'Italia e la Germania stanno arretrando a tutte le latitudini quindi diciamo è una sorta di di ultima ultima occasione ma un'occasione diciamo inutile non prima non ora in specie che è il gesto parrebbe ispirato dalla congiuntura avversa vabbè infine Cantalupo mi sussurra di prossimi mutamenti di governo richiesti da Scorza il segretario del partito e appoggiati da Albini nomina pare dei tre ministri militari e del ministro dell'interno quindi in qualche modo si presume che Mussolini voglia fare un ennesimo rimpasto per cercare di girare quando si gira quella cosa che puzza è sempre più puzzolente non è che si può in qualche modo fare del profumo 9 luglio calda e soffocata attesa nell'AFA degli avvenimenti sbarcheranno non sbarcheranno quindi è il tormentone dell'estate dove Sorice visto nell'anticamera di Palazzo Venezia non creda all'utilità per il nemico dell'occupazione della Sicilia Sorice è il sottosegretario della guerra quindi uno che ci dovrebbe capire e il 9 luglio dice agli anglo-americani non conviene attaccare in Sicilia sbarchare in Sicilia e vede più probabile il tentativo sulle coste Calabre tra Calabria e Lucania intravedo Albini elegante e chiuso Cini mancano due righe la postilla qui il capo mi riceve e alla conferma di Grandi circa il suo desiderio di lasciarmi la successione della Camera dichiara bene tu sarai il nuovo presidente della Camera quando finisce la legislatura dovrò regolare la cosa in modo da non suscitare chiacchiere intorno all'andata via di Grandi quindi Mussolini tra tutti i problemi che ha in quel momento ha però risolto il problema della presidenza della Camera che in quel momento sembra fondamentale quindi toglie Grandi che sia anche un po' stufato e ci mette Bottai che in qualche modo è sempre molto ambizioso a colazione al golf con Galeazzo ecco qui dobbiamo fermarci un attimo dovevi sapere che Galeazzo Ciano piove o fa bel tempo si vince o si perde catastrofi o cose buone il golf all'acqua l'acqua santa per Galeazzo Ciano era una cosa imprescindibile quindi in qualche modo se volevi parlare con Galeazzo Ciano andavi all'acqua santa a giocare a golf e sicuramente lo trovavi contento notizie che le forze angloamericane nel Mediterraneo sono pronte e il loro comando ha comunicato a Londra che tutto è pronto per l'ora X dove attaccheranno la proporzione delle forze aeree va da 1 nostre a 7 quindi già si sa che siamo in situazioni deficitarie mentre parliamo un vento di tempesta torce la campagna e il cielo si fa cupo e tetro verso il mare di Civitavecchia mentre splende ancora in direzione di Monte Porzio sul quale sul grande pino ritto sull'orizzonte sotto cui è il Pillozzo anche molto pittoresco sempre Bottai penso alla mia piccola casa nel Turbine e alle 10 e 10 ore X attese rabbrividendo nelle albe di tante battaglie fa anche dei riferimenti un po' così poetici 10 luglio non c'è non scrive niente l'11 luglio ieri al Pilozzo l'annuncio per radio del primo sbarco sulla Sicilia sudorientale quello sbarco che Sorice due giorni prima escludeva a priori ore sperse con la mente che si rifiuta di pensare il cuore che non vuole soffrire come un mettere una mano dinnanzi agli occhi per non vedere è un po' la politica di quei giorni nel senso che poi tra le dita la luce del giorno si infiltra a forza nel senso che dice io non voglio vedere però visto che c'è la luce in qualche modo vedo qualche cosa nel senso che è una una costruzione anche fittoresca e con la luce dubbi speranze presentimenti che a notte quando la luce è spenta rimangono a covare sotto le palpebre gli atroci sogni della temuta realtà non so cosa si fosse fumato bottai però diciamo in qualche modo è indicativo di un turbamento stavamo aspettando qualche cosa noi non vogliamo decidere nessuno vuole decidere il re non decide Badoglio non decide Mussolini non decide noi non decidiamo i militari non decidono però qualcosa è avvenuto e in questa rappresentazione di questa mano che in qualche modo non vuole vedere ma deve vedere per forza l'11 luglio bottai si esprime in maniera un po' criptica ma in qualche modo esprime il suo disagio 12 luglio alterni stati d'animo durante il mattino notizie che il nemico premuto ormai dalle nostre accorse riserve o è fermato o cede in qualche tratto perfino rimbarca Augusta in un primo tempo perduta e ripresa a Siracusa si combatte la popolazione è fiera addirittura feroce a sera notizie ed altri sbarchi a Trapani a Palermo tutte queste informazioni da dove le prende non capiamo perché sono anche molto così contraddittorie assolutamente irrealistiche nel senso sbarca a Palermo il 12 luglio la popolazione è fiera addirittura feroce gli angliari si rimbarcano vabbè 13 luglio una giornata che sarà se possibile da ricordare se possibile non è dobbiamo ricordarla per forza intanto fra le più sofferte della mia vita quindi il 13 luglio 43 è la più sofferte di e ne ha avute di sofferte non è che ha avuto una vita così tranquilla spassionata la notizia di ieri sera ultimora portatami da Morandi non è esatta che si trattava solo di bombardamenti dal mare di Trapani e Palermo questo Morandi che è un po' un buon tempone nel senso che ha dato delle informazioni un po' così vabbè c'è di peggio trascorro la mattinata in casa in relativa tranquillità dopo una notte di sonno duro e senza sogni vedo Roberto Rossi Gabriele Paresce odo al telefono voci basse non più per tema della censura ma di sé e dell'accento stesso della verità quindi tutti hanno un po' timore a parlare ma non per la censura perché non si sentono alle 13 in punto Scorza mi chiama al telefono alle 13 e 30 Scorza ricordiamo è il segreto del partito alle 13 e 30 sono da lui a Piazza Colonna passo subito dalla stanza dei segretari gremita di gente o preoccupata o segnata in volto dalla veglia congestionata la faccia di Tosi il neoprefetto di Reggio Calabria Scorza da una parte mi dice del rifiuto di Grandi di parlare al rapporto di Bologna dopo domani io dovrò parlare a Firenze in altri capoluoghi di Regione praticamente Scorza gli avevano una grande idea che lui aveva tante idee così campate per aria nel senso chiamiamo tutti i gerarchi i più grandi in vista e li facciamo parlare nei capoluoghi di Regione per fare dei comizi in cui diciamo il fascismo è ancora solido l'Italia è ancora solida possiamo vincere quindi in qualche modo diciamo cerca di galvanizzare il popolo attraverso la galvanizzazione dei maggiorenti del partito peccato che i maggiorenti del partito non sono galvanizzati loro stessi quindi tant'è Grandi non ci vengono questa buffonata non la voglio fare eppure Bottai è un po' un po' debbiose e però c'è un malumore in essere che infatti porterà a quello che andremo a leggere quindi vuole che io parta per andarlo a persuaderlo quindi Bottai deve andare a convincere Grandi a fare questa cosa mentre si parlotta tra noi lo chiamano nel suo studio mi fa accenno di entrare con lui vi trovo Albini Bastianini Chierici quest'ultimo in grigio verde e le mostrine della polizia ho subito la sensazione di essere in un piccolo consiglio di guerra invitato a rimanere vengo a farne parte de facto vedo che sono arrivati agli argomenti estremi lui questo lui amato e incombente adorato e ingombrante lui lui tesi non bisogna fare il rapporto di giovedì inopportuni nella tragicità della situazione domando di questa di cui evidentemente avevano già parlato in breve le notizie favorevoli di ieri erano errate anzi dicono false e lasciano pensare o di smarrimenti incredibili o di voluti tradimenti di questi sarebbe indubitabile l'esempio l'abbandono di Augusta senza che vi fossero altri colpi e che quelli delle cariche con cui si sono fatti precipitosamente saltare fortificazioni e cannone quindi quello che era stato detto che era periferito con il morante di prima erano tutte fake news potremmo dire oggi per usare un eufemismo l'ammiraglio che comandava il porto fatti dare alle fiamme anche i venti aerei a sua disposizione abbandonava il suo posto e tutte le truppe con lui a sera gruppi di marinai fuggiaschi venivano arrestati per le vie di Catania un fuggifuggigendale alcuni aviatori arrivavano a Roma in pigiama il porto di Siracusa cadde subito in mani nemiche ne fu mai ripreso da noi a Gela il nemico tiene la costa saldamente la sua la sua colonne marciano verso l'interno ormai perfettamente collegate fra loro riserve nostre nessuno sa nulla non si riesce a parlare con Guzzoni che è il comandante dell'armata in Sicilia né con l'alto commissario Testa una divisione tedesca corazzata ha passato lo stretto questa notte con suoi mezzi aerei accorrono a centinaia ma la conclusione è che nessuno ha fiducia nessuno spera proprio e volevano andare a galvanizzare il popolo per dire che era tutto a posto si prosegue la nostra conversazione invece di rapporti nelle regioni un rapporto al centro degli uomini più rappresentativi che esaminano la situazione e maturino proposte perentori da fare al capo scorza chiede e ottiene di vederlo subito noi l'attendiamo torna il duce che mera stato nel frattempo descritto da Albini come disfatto pare un Buddha assente gli ha rifischiato qualche motivo di fiducia la solita tattica dell'inganno del trucco ha ceduto al rinvio dei rapporti alla convocazione romana quindi si dice no non lo facciamo più quella cosa di prima che abbiamo fatto non andate in giro a dire che siamo forti perché le notizie sono talmente tragiche che facciamo una brutta figura pensate un po' quanto erano tragiche quindi dice no però andiamo dal duce e cerchiamo di capire cosa possiamo fare si discute di questa dei nomi e dei temi o meglio dell'unico tema Chierice e Bastiannini sono le due punte estreme sostengono che bisogna andare dal capo pregandolo di mettersi da una parte sopra o accanto al governo non si sa bene da qualche parte dietro non si capisce e lasciare che un governo responsabile con i suoi tre ministri militari da nominare e gli altri da confermare o mutare governi anche i fascisti dicono bisogna fare qualcosa però sappiamo che il re non è per la quale io taccio che non arrivo ad afferrare l'idea di questo Mussolini estromesso ma fino a un certo punto sono stordito dal colpo avuto e qualche cosa mi sfugge sento come due tentacoli del cervello frugare in quel viluppo di frasi sconnesse e trarne un senso pure qui non so che si era fumato però in qualche modo è confuso parole povere scorza alla sua faccia impassibile da bonzo Mussolini è il Buddha e lui è il bonzo l'ha definito l'ha definita qualcuno è solo un po' pallido alle 15 ci si congeda dovremmo tenerci in contatto fino alla riunione che avrà luogo dice venerdì passo un pomeriggio sotto un pensiero indistinto e massiccio come un macigno un dolore blocco che non si decifra non ha ancora un nome ne avrà mai quello della mia sorte personale né quello della mia famigliola che è immedesimata la mia sorte e quindi pronta allo stesso sacrificio sì la patria sembrava un lungo amore il nostro per essa e prove ne sembravano le guerre fatte per lei ora la patria è questo dolore immenso sordo oscuro cupo con un rombo pauroso da visceri sprofondate nella sua terra nella sua carne la patria è il dolore la fede in lei è il dolore ma tutto il mio soffrire per lei dai miei vent'anni di col di lana ad oggi non fu che combattimenti battaglie polemiche lotte dolori ma non il dolore ora mio dio più che l'aver militato e pugnato più che l'aver creduto e servito con una purezza che voi solo potete prescrutare ora mi valga innanzi a voi questo dolore e mi valga attraverso voi innanzi ai miei figli ed essi illumini il cammino e altri necessari patimenti del mio Bruno soprattutto fa tutta una una sorta di preghiera una preghiera quasi quasi laica vabbè io vi leggerei pure il 14 luglio ci siamo così arriviamo poi dopo ci fermiamo il 14 luglio mi levo dopo una notte metà e metà di sonno e di vedita comincio a padroneggiare il mio dolore esso deve impietrarsi là dinanzi a me e lasciarmi agire bisogna evitare le commozioni per cui non ce n'è tempo né spazio di distinto mi metto al mio tavolo e metto nell'ordine dei miei pensieri di ieri delle ipotesi avanzate in quel piccolo affannato consiglio di ieri mi traccio questo quadro virgolette una situazione di governo con Mussolini quindi espone le ipotesi si espone a se stesso le ipotesi una situazione di governo con Mussolini significa ancora una situazione tutta in mano al fascismo partito e idea se la situazione è non si ritiene che sia questa occorre comunque Mussolini che nei limiti ma anche con la celerità che l'ora consente ed esige si adegui alle funzioni di capo del governo secondo le norme della costituzione fascista adotti i seguenti provvedimenti quindi diciamo che ci sia sempre Mussolini sia volente o nolente quindi i provvedimenti devono essere nomina dei ministri militari che è un tormentone funzionamento effettivo del capo di stato maggiore con non esprimo giudizio sulle persone che è capo in cui non posso responsabilmente darne sterzamento della propaganda da rendere alta insieme più elastica slegata dal formulario di parte strumento del ministro responsabilità attiva non meramente passiva dei ministri e funzionamento del loro consiglio con la frequenza adeguata alle circostanze con vocazione del gran consiglio proclama del re al paese eseguito da un manifesto del duce e del gran consiglio anche potrebbe una situazione di questa è la prima ipotesi quindi una sorta di Mussolini rimane ma in qualche modo si cerca di fare una cosa un po' più collegiale poi una situazione di governo senza Mussolini significa una situazione che già si considera non tenibile in parte o del tutto nella mano del fascismo partito e idea non è in questo momento che distinguendo Mussolinismo dal fascismo si può accantonare sia pure più in alto quello che per mettere alla ribalta questo sarebbe troppo tardi quindi sostanzialmente un governo di fascisti senza Mussolini sarebbe una brutta copia di quello di prima sostanzialmente se fossimo a questo punto e solo chi ora ha in mano poteri e strumenti di governo può dare responsabile risposta non si tratterebbe più di distaccare Mussolini dal fascismo e dal paese ma noi quanti siamo fascisti e incarniamo quindi il fascismo con lui dal paese ma la situazione in questo caso diverrebbe tipica competenza della corona nel senso che senza Mussolini sarebbe passatemi proprio da quello che capisco che è difficile capire bottaie mi sembra un po' tipo una coabitazione alla francese dove c'è un governo che conta poco e niente ma c'è un preside un capo dello stato molto forte che in qualche modo determina la linea politica questo è un po' così voglio fare una comparazione di ingegneria costituzionale quindi diciamo un sistema francese alla quinta repubblica a questa aspetterebbe di decidere sul tipo di governo militare militare civile militare civile soltanto con civili non fascisti o con gli uni e gli altri insieme tanto sappiamo che coso che si coso che Vittorio Emanuele III non non vuole decidere dice no 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 non va bene neanche tutto così queste le due alternative l'altra Mussolini sopra o accanto costa di 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 Pappagallo ha un governo di cui non faccia parte sarebbe soltanto intermedia e questo è il periodo di decisioni estreme non intermedie ma intanto sappiamo da quale non è che bisogna fare i gradualisti no se in queste considerazioni si prescinde dal fatto guerra si è perché è evidente che esse sono nei loro fondamenti e nei loro fini legate soltanto a esso in qualche modo la guerra traspare e compare quindi vado quindi al centro salgo al partito anticamere e camere piene dei federali dell'Italia centrale parecchi ma non tutti hanno lasciato in guardaroba la grinta alla Starace o alla Mutio o alla Sereno o alla Vitussoni che questi che sembrano diversi anzi nemici oggi sono tutti una rimeditazione della medesima risma sono gli italiani di Mussolini e hanno volti più umani patiti e seguiti tutta l'elencazione dei segretari del partito che si sono susseguiti negli ultimi 15 anni che in qualche modo volevano rivoluzionare volevano riaffermare volevano ribadire i valori del fascismo eccetera ma hanno portato soltanto sostanzialmente burocrazia sotterfuggi inefficienza eccetera intravedo Cianetti che esce da scorsa gli espongo il mio punto di vista che sembra condividere apro una parentesi nella giornata andando al pilozzo il dolore è già salito fin lassù in quella casa che fu edificata dall'amore di mia moglie per le consolazioni di una vita modesta ma è un dolore che non ha lacrime di poche parole lo domineremo insieme fino a renderlo muto è tutto sciolto in azione ascolto nel pomeriggio le voci della campagna anche questa sofferenza io la assorbo nel sudore diciamo che in qualche modo mi immedesimo in quest'uomo veramente diciamo che in queste giornate di luglio oltre al caldo anche il patimento suo personale di una sorta di di sofferenza proprio somatizza somatizza tantissimo scendo a Roma vedo a Milcare Rossi gli faccio leggere il mio prospetto lo trova esatto lo stesso più tardi Scorza e a sera a Bastianini Scorza e a Bastianini sono di antipo di Scorza segretario del partito che farà una sua ordine del giorno che non verrà neanche non verrà votata nessuno Bastianini invece è comunque dell'area un po' più grandiana è sotto segretario dagli esteri che in qualche modo vuole avere un suo un suo peso specifico anche nelle determinazioni di politica internazionale Terzium non datur quindi o tutti con Mussolini sia pure costretto a agire con noi nell'estremo tentativo di dare un governo della difesa dell'Italia o tutti con Mussolini e lasciare al re di tentare lui quella difesa vabbè ci sono i tedeschi tutti osservano e io con loro Mussolini dovrebbe ottenere da loro in extremis che non tormentino il paese il re ottenere dagli altri l'uguale realizzare una neutralità assoluta metterci fuori del tutto ricominciare la vita e la storia da una solitudine chiusa e disperata cioè in mezzo alla guerra con gli angoli americani che sono sbarcati in Sicilia e con i tedeschi che stanno mandando rinforzi ma tu puoi pretendere che ci sia una possibilità di essere sostanzialmente terra neutrale follia che si è fumato troppo scorza titubante la stessa divisa divisata riunione di venerdì gli appare pericolosa si darebbe nell'occhio pensa di vederci alla spicciolata di far maturare il passo con un numero più ristretto di persone tergiversazioni intanto nel primo pomeriggio Catania è caduta in mano al nemico le famose riserve non ci sono la cifra dei 300.000 e passa uomini non era more mussoliniano che il totale delle truppe dislocate e non accentrate a guisa di riserve inganno miraggio tutte e due diremmo domando di lui leggermente ripreso mi dice scorsa ora pensa a una specie di tunisi con una linea sulle madonie dunque il meglio ora assomiglia al peggio sì anche perché in tunisia non è andata bene domando di lui ah no questo già l'ho letto scusate dallo stato maggiore giungono voci scorate qualcuno tra gli oziosi consiglieri di Montecitorio in specie parla di tradimento dei generali i veleni della decomposizione ci attossicano una parola un gesto un atto sono necessari da chiunque e di dovunque bisogna fermare la cancrena peccato che nessuno si prende la responsabilità di tagliare la gamba e tagliare la gamba è Mussolini quindi Mussolini perché come diceva Acquarone non si fa il re non si fanno colpi di stato a data fissa quindi in qualche modo questa gamba dobbiamo gestire un po' zoppicante anche se c'ha la cancrena in qualche modo ce la dobbiamo tenere perché non possiamo andare senza una gamba anche se è così va bene proseguiremo nel senso proseguiremo non vi preoccupate è interessante come del resto le altre letture come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao